Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cavallart. Io sono Vento e io sono Tanna. Questo è un video news. Molto veloce. Allora, innanzitutto vi vogliamo tranquillizzare che non è che la serie è finita o non vogliamo fare più la serie, non vi preoccupate, e che con la scuola, maneggio, tanti impegni vari, le Cavallart non hanno molto tempo per registrare e soprattutto questa puntata durerà più del solito. Esattamente, domani, cioè lunedì, il giorno in cui si manderà questo video, intanto le nostre amiche Cavallart stavano registrando la puntata. Quindi state tranquilli, non stiamo chiedendo nulla, è che ci vorrà un po' più di tempo. O si manderà martedì prossimo, o quello dopo ancora, o tra tre settimane. Dipende, ma ovviamente Cavallart tenterà di fare il meglio possibile, non è vero? Comunque, un'altra cosa che dobbiamo dirvi è che questo giovedì, il giovedì 13 dicembre, uscirà finalmente la nuova serie di Cavallart. Tranquilli, sarà in contemporanea con quella del maneggio di poli. Non andrà a sostituire la serie, state tranquilli. Che fa? Uscirà ogni giovedì, per 10 settimane, alle 14.30. E come ultima cosa, vogliamo dirvi che per il corazzon caliente abbiamo già progettato le scalette degli episodi. Stiamo solo scrivendo i copioni. Bene, con questo concludiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!